Come hai trovato le tracce d'esame questa mattina? Un po' difficili, però bene o male si potevano fare. Tu quale hai scelto? Tecnico-scientifico. C'è più comunicazione, è meglio i sentimenti, parlare, è sempre meglio dire la voce che tramite sms, tipo su facebook, scrivono commenti, che tanta gente pure non si trova bene e tutto quanto, perciò è sempre meglio comunicare a voce che tramite social network. È l'analisi del testo di Italo Calvino. Avevi letto il libro? No, però insomma era una traccia interessante anche perché l'argomento, soprattutto nell'analisi del testo, se te prende c'hai comunque possibilità di impostare un pochetto il discorso. Io ho scelto quello che tratta l'immigrazione, quindi socio-politico, ho parlato appunto della situazione attuale dell'Italia e anche del Mediterraneo nella storia, quindi ho descritto tutto quello che era avvenuto nel Mediterraneo prima del periodo attuale, diciamo. L'Europa dovrebbe farsi carico di questi immigrati e quindi dividerli nei vari paesi dell'Europa. Il problema dell'abuso di tecnologia l'ho reso divertente, cioè l'ho buttato sulla comica. Io ho scelto la tipologia dell'ordine generale e era un tema su una ragazza pakistana che aveva lottato per ottenere il diritto dell'istruzione. Il tema generale della ragazza pakistana che lottava contro il diritto all'istruzione. Come mai hai scelto questo? Perché è l'unico che sapevo fare. Mi tocca da vicino perché porto una tesina sui contratti di lavoro, quindi sulla sicurezza, sullo sfruttamento minorile, quindi i problemi che affliggono le donne. Quello che prende sui smartphone, sui social network, ormai fanno parte della vita di tutti i giorni, quindi non è sbagliato secondo me sfruttarli affinché la comunicazione sia migliore, anche perché oggi le notizie, qualsiasi tipo di notizia, gira più sui social che magari su un quotidiano. Devono essere usati ma con buon senso e soprattutto con giudizio, altrimenti può andare a finire come spesso è successo in tragedia o con ripercussioni psicologiche, ad esempio le persone che oltre a magari non arrivano al suicidio ma subiscono un continuo stalking, soprattutto ragazze, sia su social network sia tramite telefono. E come ho scritto nel tema che comunque hanno portato comunque degli aspetti positivi, però bisogna comunque darsi dei limiti, ecco. Ho parlato della comunicazione, la comunicazione con i cellulari, la televisione, la comunicazione di massa e tutto ciò di internet. Io ho scelto la prima traccia, l'analisi del testo, era un testo di Italo Calvino, il senziero Denidi di Ragno. L'avevi già studiato prima, ho letto il libro? Avevo letto il libro, quindi mi trovavo un po' avvantaggiata. Ho parlato comunque della comunicazione di massa, come influiscono i mass media sulle nostre scelte. Anche le altre tracce erano molto fattibili e soprattutto interessanti. Grazie. Grazie. Grazie.